Salve a tutti e benvenuti su AllpizTV, all for io tanto prima o poi vieno a pure to, su AllpizTV, andiamo ad un'altra piccola canzoncina dal titolo terrificante, vado, uno, due, tre, preferisco le poche persone veri e leali non quelle che fanno finta di aver messo le ali per esser normali ma sono solo avvoltoi pronti ad arraffare il tutto hanno dei mani senza sapere che per loro non ci sarà mai uno splendido domani chi fa finta di non capire di essere solo a piacimento usato non avrà mai un minimo di futuro ma neanche da raccontar un degno passato le giustificazioni da parte di tutte sono tante alzo le mani impossibile capire per me il tutto è imbarazzante sentire scuse terrificante preferisco le poche persone veri e leali non quelle che fanno finta di aver messo le ali per esser normali ma sono solo avvoltoi pronti ad arraffare il tutto hanno dei mani senza sapere che per loro non ci sarà mai uno splendido domani chi fa finta di non capire di essere solo a piacimento usato non avrà mai un minimo di futuro ma neanche da raccontar un degno passato non l'età assoluta all'epizzo tv all'epizzo tv tanto prima o poi viene pure tu puoi ricevere il start fair ma quando vai cavalloni gigante per tutti quanti come questo mi saluto e prima o andate alla prossima come sempre all'epizzo tv all'epizzo tv tanto prima o poi viene pure tu arrivederci